MALEFICIUS MALEFICARUM! ORRIBILIS BESTIARUM! DISGUSTIVUS! Per me? Grazie! Non è avvelenato, vero? Purtroppo no. Non riesco più a usare la mia magia nera. È tutto così rosa. Ma stai bene? No, è successa una cosa orribile. Credo di essere in... Infetta? No. Incavolata? Anche! Ma sono in... Inutile? No. Innamorata. Mi piace un ragazzo e non sa cosa fare. Ma Evie è fichissimo! Tranquilla, ti aiuterò io a conquistarlo. L'amore fa schefo. Mmm, questo cupcake invece è buonissimo. Prima lezione. Devi imparare a parlare col cuore che ti batte forte. Come quando lui ti farà un complimento. Ed è per questo che sto correndo da un'ora? Esatto. Vediamo come te la cavi. Se per esempio lui ti dice come sei carina, tu cosa rispondi? Sei bello come un rospo. No, serve a qualcosa di più tenero. Come... come un pipistrello. Cidelfi, sei proprio senza speranza. Corri. Corri. Hop, 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 hop. Ah! Ops. Seconda lezione. L'amore può far male. Au. E adesso troviamo l'outfit perfetto per il primo appuntamento. Vai! Saria dalla camera. Term pasar dentro alla prova, giù di A e C feste l'è L'è che noi stiamo quel Finalmente ci siamo Ma mi fa schifo Allora è perfetto Ultima dritta Ai ragazzi piace tantissimo quando ridi alle loro battute E se non fanno ridere? Non fanno mai ridere Ma tu ridi lo stesso Tipo così? Meno malvagia proviamo con la O Ok no Con la E Brava può andare Ora sei pronta per il tuo primo appuntamento Sì! Non facciamolo mai più No Allora ti è piaciuta la cena, Vladi? Non mangiavo così bene da quando la mia povera nonna è mancata Come sei spiritoso Hai uno strano senso dell'umorismo Ma non più strano del tuo outfit È un complimento? Più o meno Mi batte forte il cuore Mi sono allenata per questo E tu invece sembri una verruca in abito da sera E i tuoi capelli sono gialli come un brufolo Oh, me lo diceva sempre anche la mia povera nonna Tutto bene? Digli quello che provi Allora, senti, senti, Vlody Io, io nuoto in un'esplosione Quando, quando mi decapitano? E poi saluto tutti E ti reggo la testa mentre vomiti? Et voilà! La torta del contadino C'è dentro un vevo contadino? Sì Buon appetito Sai, Vlody Ti devo confessare che questo era il mio primo appuntamento Mi sono sentita, tipo, un po' sotto esame In effetti lo evi Mi sono permesso di darti alcuni voti Allora, outfit 4 Humor 5 meno Fascino 3 E calcola che una volta sono uscito con una morta vivente a peso 6 Quindi è stato un disastro totale? No La tua elfa domestica è stata bravissima Davvero impeccabile Come osi! Tu! Scroccone! Fisci da sanguisuga! Chi ti credi di essere? Sei solo uno scorpio arrogante! Oh, è la cosa più bella che mi abbiano mai detto Zitto! Sono così infuriata che mi è tornata la mattia nera Sei sfuggevole e pericolosa Io ti amo! Fuori di qui! Poco sta valutata adesso! Allora ti chiamo io! Allora, Ivy Ho saputo che tu e Vlody adesso state insieme È divertente avere un ragazzo In questo momento lo sto torturando Come? Come? Sortileggio! Bambola voodoo! Peggio! Visualizzo e non rispondo! Anch'io lo faccio sempre con Matteo! Ciao! Sì, 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 sì.